buonasera amici di adige sport oggi abbiamo il piacere di avere ospiti qui appunto ad adige sport una delle società più blasonate anche più storiche di verona il team santa lucia golosine lo facciamo salutando il responsabile del settore giovanile saverio barini benvenuto buonasera buonasera a tutti allora 1946 è la data di nascita del team santa lucia golosine in realtà questa società raggruppa tante vecchie società che c'era una volta quando ogni quartiera aveva proprio il suo pezzettino ricordo il golosine l'usmeta golosine la fraternità quant'era diciamo che il raggruppamento vero è di tre società santa lucia golosine e successivamente euro euro team quello che a sua volta però era euros j più fraternità esatto esatto però diciamo il tre storiche santa lucia golosine messa insieme dopodiché hanno inconglobato anche la parte del team allora ne è venuta fuori una società molto grande che anche diciamo sul territorio ben distribuita e a quanti tesserati adesso siamo oltre 300 quest'anno abbiamo avuto un grande boom nei piccolini perché probabilmente la pandemia ha permesso ma non solo a noi penso a parecchie società in italia di avere ancora più giocatori giovani visto che magari giocare all'aperto era meno rischioso che giocare al chiuso quindi magari anche chi andava in palestra prima e i genitori hanno preferito fargli fare uno sport all'aperto la prima squadra è riuscita a tornare in eccellenza una categoria molto importante che puntate a conservare chiaramente la prima squadra era retrocesse in malo modo quando c'è stato la definizione delle classifiche per covid l'unica giornata che è rimasta ultima in classifica era stata proprio quando è stato bloccato per covid era retrocessa e l'anno dopo hanno ripreso le classifiche per aumentare portare a 42 le squadre in eccellenza e il team era tra i primi quindi è stato automatico il ripescaggio è una squadra giovane è una squadra con elementi che sono anni che giocano lì al team non siamo messi bene in classifica perché attualmente siamo ultimi però diciamo la classifica è molto corta e abbiamo ancora grandi speranze di mantenere la categoria allora c'è tanta carne al fuoco per il team santa lucia golosina abbiamo anche delle foto molto belle da mostrare per esempio due personaggi direi che sono cardine passato presente futuro qualcuno purtroppo solo il passato perché è mancato pochi anni fa di del team questo è appunto luciano giglio che era anche presidente del golosina esatto diciamo che la fusione vera è stata quella tra belligoli e giglio tra sicuramente due molto importanti per il quartiere di santa lucia golosina si sono messi insieme hanno rilevato la rivalità che avevano tra di loro ed è nata questa diciamo grande società diciamo che la figura di giglio è stata no fondamentale di più e ancora adesso è rimpianto perché lui era proprio delle golosine amante del quartiere e credo che era appunto di riferimento un po per tutti belligoli dalla parte santa lucia invece era il riferimento di quella zona lì e dopo mettendoci insieme hanno creato veramente una società molto molto grande e infatti vediamo anche la foto delle giovanili per esempio qui siete al bentegodi vediamo se è la nostra regista eccola qui cos'è questa foto questa foto è al bentegodi quando fammi vedere un attimo si esatto quando è stato vinto il campionato con gli allievi quindi hanno ripreso anche la categoria che era stata persa nei regionali possiamo mostrare anche le altre in particolare ce n'è ecco questa con la virtus questa qua è la verona league riservata agli esordienti dove il team santa lucia ha partecipato alla prima edizione e ti vediamo anche impegnato in un'altra foto con il sorteggio insieme ad adriano zuppini e quello qui proprio della virtus esatto quando diciamo la virtus ha avuto l'idea di creare il verona league riservato a categorie esordienti e ci siamo messi insieme con loro il primo anno è stata dedicata proprio a luciano giglio come edizione e qua siamo nel momento del sorteggio ecco molto bello e allora bello parlare anche di persone che non ci sono più invece andiamo al futuro abbiamo detto l'eccellenza una categoria da mantenere però voi lavorate tantissimo sul settore giovanile come è strutturato noi lavoriamo tantissimo col settore giovanile abbiamo la prima squadra in eccellenza abbiamo tutte le squadre regionali di cui gli uniore se il under 17 sarebbero gli allievi nella massima categoria regionale sarebbe quelle elite giovanissimi regionali e dopo abbiamo tutte le squadre sotto dagli esordienti fino arrivare alla scuola calcio eccolo qui infatti il vostro sito che è gestito e organizzato veramente molto molto bene c'è da fare complimenti a Filippo Gragnato che oltre a curare il sito vi dà una mano nel settore giovanile insieme a Fabio Gaspari eccolo qui infatti il settore giovanile con tutte le squadre dalla scuola calcio in su fino agli esordienti ecco e invece il Saverio Barini che rapporto ha con il golosine sei stato giocatore e allenatore c'è una foto che adesso rimetteremo in quella con le strisce orizzontali in cui sei visibile esatto quando allenavo in seconda categoria e ho vissuto la diciamo la fusione tra Euro Team e Team Santa Lucia diciamo che ho fatto il primo anno di fusione questa foto è veramente storica c'è addirittura c'è Diego Campedelli vediamo esatto l'attuale direttore generale della Virtus c'è Diego Gatto c'è Vantini l'ex sindaco di San Giovanni sì sì aveva una bella squadra sicuramente era molto forse era una delle più giovani in categoria infatti abbiamo fatto anche molto bene perché abbiamo ricordo quell'anno lì pur essendo giovani abbiamo rischiato di rovinare c'era ancora l'Alessandra di Campedelli che gioca di Martinelli in quella categoria che era una squadra portata per le caratteristiche economiche della società ascolta la difficoltà maggiore di fare calcio a Santa Lucia è la cosa più bella la difficoltà maggiore è che sei in città quindi sponsor non hai il padre padrone che puoi trovare nei paesi quindi devi arrangiarti un po' con gli piccoli sponsor dopo un po' la difficoltà nostra rispetto a tante altre società stiamo cercando di sistemarla un attimo magari per l'anno prossimo non abbiamo purtroppo i pulmini che girano a prelevare i ragazzi in giro e ci arrangiamo un po' con i ragazzi del quartiere e nonostante tutto otteniamo grandi risultati però giustamente se vuoi ottenere risultati ancora più grandi devi evolverti un attimo è inutile star lì ci serve una mano in più male dai pulmini che possono prelevare i ragazzi degli altri quartieri e la soddisfazione più grande dove ti viene? viene dai risultati del settore giovanile ma soprattutto nei piccolini ma ripeto quest'anno abbiamo avuto un boom incredibile come ho detto prima probabilmente dovuto al covid che ci ha portato i ragazzi che giocavano erano in palestra però lì abbiamo veramente dei numeri enormi abbiamo di quelle annate con 25-30-35 ragazzi per annata quindi è una bella soddisfazione è un bel impegno anche trovare gli allenatori nel settore giovanile c'è un bel impegno trovare per fortuna abbiamo parecchi ragazzi che giocano nella junior e negli allievi che ci stanno dando una mano a livello poco di piccolini ultima domanda che cosa vorreste sotto l'albero per il team? allora sicuramente ed è stiamo vedendolo fino in questi giorni qua sono partiti i lavori per il campo sintetico erano quasi dieci anni che c'era stato promesso alla fine ieri sono partiti infatti il campo di via Santa Elisabetta non esiste più adesso esistono soltanto dei muri di terra che sta per essere portata via e pian piano dovremo essere pronti per agosto-settembre con il nuovo campo sintetico che sicuramente sarà il fiorell'occhiello del quartiere e del comune di Verona soprattutto beh allora tantissima carne al fuoco in bocca al lupo e buon anno al team Santa Lucia-Golosine grazie a Saverio Barini grazie anche a voi, buon anno e buon Natale a tutti grazie a tutti